da quanto mi scrivi e da quanto sento nutro per te buone speranze non corri qua e là e non ti agiti in continui spostamenti questa agitazione indica un'infermità interiore per me invece primo segno di un animo equilibrato è la capacità di starsene tranquilli in un posto e in compagnia di se stessi ma da poi che il fatto di leggere una massa di autori e libri di ogni genere non sia un po' segno di incostanza e di volubilità devi insistere su certi scrittori e nutrirti di loro se vuoi ricavarne un profitto spirituale duraturo chi è dappertutto non è da nessuna parte quando uno passa la vita vagabondare avrà molte relazioni ospitali ma nessun amico lo stesso capita inevitabilmente a chi non si dedica a fondo a nessun autore ma sfoglia tutto in fretta e alla svelta non giovane si assimila il cibo vomitato subito dopo il pasto niente ostacola tanto la guarigione quanto il frequente cambiare medicina non si cicatrizza una ferita curata in modo sempre diverso una pianta se viene spostata spesso non si robustisce niente è così efficace da poter giovare in poco tempo troppi libri sono dispersivi dal momento che non puoi leggere tutti i volumi che potresti avere basta possederne quanti puoi leggerne ma ribatti a me piace sfogliare un po questo libro un po quest'altro è proprio di uno stomaco viziato assaggiare molte cose la varietà di cibi non nutre intossica leggi sempre perciò autori di valore riconosciuto e se di tanto in tanto ti viene in mente di passare ad altri ritorna poi ai primi procurati ogni giorno un aiuto contro la povertà contro la morte e anche contro le altre calamità e quando avrai fatto passare tante cose estrai un concetto da assimilare in quel giorno anch'io mi regolo così dal molto che leggo ricavo qualche cosa il frutto di oggi lo tratto da epicuro è mia abitudine penetrare nell'accampamento nemico ma non da disertore semmai da esploratore dichiara epicuro è nobile cosa la povertà accettata con gioia ma se è accettata con gioia non è povertà povero non è chi ha poco ma chi vuole di più cosa importa quanto c'è nel forziere o nei granai quanti sono i capi di bestiame o i redditi da usura se ha gli occhi sulla roba altrui e fa il conto non di quanto ha ma di quanto vorrebbe procurarsi mi domandi quale sia la giusta misura della ricchezza primo avere il necessario secondo quanto basta stammi bene vale